Siamo qui per ricordarvi che ogni ultimo lunedì del mese c'è uno speciale ore 13, il faro Economia in luce con Alberto Di Franceschi. E allora, di che cosa parleremo? Parleremo in maniera più approfondita di quelle che sono le tematiche presenti nella pillola settimanale assieme ad ospiti e in più tratteremo temi di approfondimento di quello che vivono i cittadini a livello di economia e fiscalità. E quindi l'appuntamento è ogni ultimo lunedì del mese.